ciao a you come state? oggi video in napoletano mentre mangio patatine fritte giganti e scamorza affumicata wey allora queste patatine sono proprio grosso mamma mia vedi che loro rimangiano tutto quanto ma prima ci mettono poche salsa piccante alla messicana ma roa già si accorta mi mangio tutta sta roba perchè mi veno male panso mangio una fetta di scamorza affumicata mamma mia trope sa burrida Sì, sì, sì. Mamma beve un po' di coca cola a zera e quanto è fresca e quanto è buona. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 E l'ultima parte Una squisitezza E che ha già riuscito a fare due piatti Significa che è buona, buona, buona Tutta cosa Iscrivetevi al canale E attivate la campanella Arrivederci a tutti Statevi buoni